Oggi siamo qui all'ISE 2022 a Barcellona, è un piacere incontrarvi. Siamo davanti al nostro bambino, il LED Wall Only One 220 pollici, come potete vedere un oggetto che non rimane nascosto all'attenzione. Oggi, oltre al LED, che spero possiate vedere anche dal vivo nei nostri showroom, ci vogliamo focalizzare in quello che è il sistema di Unified Communication, quindi oggi MaxHub lancia nuove linee di comunicazione green, tutti i nostri nuovi prodotti sono Power over Ethernet, dalle telecamere Broadcasting PTZ alle nostre nuove video bar con su Android. La logica è cercare di essere green, cercare di dare quello che serve all'utente, quindi puntiamo tantissimo sul content sharing, la possibilità di avere content sharing sul nostro bambino LED, ma anche sulle video bar. Ovunque l'utente abbia la necessità di condividere, deve trovare un'applicazione facile e utile. Se non ha voglia di usare la nostra app, c'è la Dangle, che tutti conoscono, il pulsantino clicco e vado. E questa qua è la grossa novità. Chiaramente il mondo Unified Communication spazia dalle telecamere professionali sino alle webcam. Oggi abbiamo anche il nostro vincitore come miglior design Red Hot 2021, che è la telecamera a 360 gradi disponibile al corner opposto, dove effettivamente ovunque tu ti sieda puoi essere visto e la nostra intelligenza artificiale fa sì che Face e Voice Reconnection riescano a raggiungerti anche in una situazione di questo genere, dove audio e video solitamente non funzionano al meglio. Ci aspettiamo veramente tanta tanta gente perché comunque c'è molto interesse sulle nuove tecnologie e quelle che sono anche le visioni a medio termine. Qui all'interno di Max Abba abbiamo una visione a medio termine che possiamo condividere con tutti gli spettatori dell'ISE.